Siamo tornati con Every Within Ah, il centro! Già, Leslie era ricoverato qui anni fa Sarà venuto qui alla ricerca di un rifugio sicuro Lei sa dove siamo? Questo centro è gestito da mio fratello, ci farà entrare Non ha risposto alla domanda In realtà non lo so Forse sto diventando pazzo e lei non esiste nemmeno Ma mi piace pensare che ho ancora uno straccio di dignità E il dovere di proteggere un paziente Lei è la legge, vale lo stesso per lei Speriamo che suo fratello non sia così Quando c'è la musichina vuol dire che c'è la pagretta a fare Speriamo che ci sono Lo sapevo. Ha dimenticato qualcosa? No, 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 no. 12. 13. 15. 16. 16. 19 16. 18. 17. 18. Aiuto! 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 Che vai niente qua? Non vabbè par là? C'è chiudere! Aprecciao! E cosa sarà successo qui? Con calma. Non c'è tempo da perdere. Doc, no. Non... Valerio, sono io. Lui è mio fratello Valerio, il primo medico di... Tira piano. Ehi, che stai facendo? Voi. Voi? Che, da. Voi. 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 Y'è? Voi. 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 Grazie a tutti. 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 Prude... 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 Come può aver fatto questo a Valerio? Impossibile. Impossibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Leslie? Veniva da fuori? Sì. 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 Ehi, mi aspetti. Sì. Ehi, mi aspetti. Sì. 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 Andiamo andare. Sì. 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 Andiamo arrivando laggiù. Non mi lasci qui. Ok, ok, ok. Il dottor Imènes è qui. Ora calma. Dottore, un attimo. Sta arrivando qualcuno. Qualcosa è qui? Stai calmo. Fa paura. Stai fermo. E' finita? E' ancora là fuori? Questo posto è una trappola. Esisterà un posto sicuro. Purtroppo, ne dubito. Non si esce. Non si esce. Dobbiamo andare, per di qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Le scale sono sparite. Forse siamo impazziti tutti quanti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti! Impazziti tutti! Impazziti tutti! Oddio. No. Ruvik. Sei... sei tu. Lesley? Che diavoce? No! Non farlo! Ma che... Dottore? Lesley? Cazzo... Che diavolo succede? Ruvik. Oh 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 A presto. A presto. Tengo a seco. Tiennastro. Oh fuck! No, 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 no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.